Ciao, benvenuto o bentornato sul mio canale. Io sono Trisha e oggi siamo qui per un book haul. Mi ero ripromessa di non comprare più libri, di non spendere più soldi. Ovviamente il mio progetto è fallito miseramente, altrimenti non saremmo qui. In realtà devo dire che sono stata abbastanza brava perché mi ero ripromessa di non comprare libri per almeno un mese. Essendo che a maggio ci sarà il salone del libro e io sarò lì dal 18 al 21, se non erro, ho pensato che comunque questa promessa sarebbe stata infranta. Comunque il dia avrei sicuramente comprato dei libri e quindi mi sono lasciata tentare alcune novità e soprattutto volevo arrivare anche un po' preparata al salone e quindi ho recuperato dei titoli. Alcuni in realtà sono usati, li ho presi ad una bancarella qui vicino casa, quindi anche lì sono riuscita un po' a contenere le spese. Però anche se ho comprato delle cose, devo dire che in realtà sono stata comunque brava perché ho resistito per ben un mese e mezzo. Quindi in un certo senso la promessa è stata mantenuta, avrei potuto resistere un poco in più, però purtroppo i libri chiamano e io chi sono per non dare ascolto. Comunque ci tenevo come sempre a dirvi che se avete letto alcuni di questi titoli, volete leggerli, qualsiasi cosa vi va di chiacchierare, vi aspetto nei commenti. Nell'info box trovate tutte le informazioni, vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e ad iscrivervi al canale, visto che siamo quasi 200 se non sbaglio. E ci tenevo anche a ringraziarvi molto. Detto questo direi di partire immediatamente perché ci sono un bel po' di libri e alcuni sono anche alle mie spalle. Ovviamente su tutti i titoli non mi soffermerò particolarmente perché non avendoli letti non saprei darvi le mie opinioni e soprattutto conosco in maniera molto generica alcune trame, quindi andrò molto veloce. Direi di iniziare comunque dai libri usati che ho preso alla bancarella. Il primo che vi mostro è Vita meravigliosa di Patrizia Cavalli, del quale in realtà vi ho già parlato anche più di una volta sul canale perché è una raccolta di poesie dedicata alla vita, alla morte e alla scrittura ma anche a tante altre tematiche e ovviamente vi invito a recuperare i video in cui me ne parlo, in cui lo raccomando poi sostanzialmente perché mi è piaciuto molto e quindi vi lascio il link in info box se volete saperne un po' in più. Poi, altro titolo che ho sempre recuperato, appunto usato, è questa serie di racconti di Thomas Mann dove abbiamo La morte a Venezia che in realtà io ho già letto, abbiamo Tristano, Dal profeta, Cane e padrone, Tonio Kroger e via dicendo, molti altri. È un'edizione vintage giunti, no, tascabili bonpiani e l'ho pagato, se non sbaglio, 3 euro, poi in realtà il signore della bancarella che mi conosce sa che sono una cliente abituale, me l'ha scontato a 2 euro. A me piacciono tantissimo queste edizioni tascabili vintage, soprattutto dei tascabili bonpiani, ne ho diversi in libreria e spero di leggerlo il prima possibile. Ovviamente è quel tipo di titolo in cui ci sono diversi racconti e non va consumato, non va letto tutto d'un fiato ma un po' alla volta ed è ciò che farò io poi appena avrò un po' di tempo. Poi, altri due titoli sempre presi nello stesso posto sono Una peccatrice di Giovanni Verga, anche questo tascabili bonpiani, mi piaceva tantissimo la copertina. Verga è un autore che io amo particolarmente, di cui ho letto un po' di cose, però l'ho letto in un periodo particolare della mia vita, alcuni titoli addirittura alle medie e ho fatto eccezione proprio per quegli elementi, per quella trama più semplice, più generica, che diciamo conosce chiunque perché è un autore che si studia a scuola, i suoi titoli vengono studiati alle medie, al liceo, via dicendo. Quindi, a parte queste informazioni basilari che possiede veramente chiunque, pur avendo letto questi titoli, in particolar modo Mastro Don Gesualdo e Malavoglia, Io in realtà non ricordo praticamente niente, se non la sensazione, il momento in cui ho letto certi titoli durante i quali ho proprio questo ricordo bellissimo perché le descrizioni del libro coincidevano molto con il paesaggio che avevo proprio davanti a me praticamente, quindi ricordo solo questa sensazione, vorrei rileggerli il prima possibile, però nel frattempo ho recuperato la peccatrice che è veramente molto corta e quindi credo che inizierò da questo. L'altro titolo che ho recuperato è Fiori per Algernon di Daniel Kies, anche questo pagato all'incirca 2 euro, in realtà alla stessa bancarella anni fa avevo comprato l'altro suo, forse un po' più famoso, che mi sembra si chiami una stanza piena di gente, non vorrei dire una stupidaggine, e quello però ancora in realtà non l'ho letto, questo l'ho trovato nella stessa edizione e quindi ho pensato di recuperarlo, anche perché, a parte il costo, ne ho sentito parlare veramente benissimo su TikTok soprattutto, quindi vorrei dargli una possibilità, soprattutto perché ultimamente mi sto molto appassionando al genere, quindi voglio assolutamente cominciare a capirne un po' di più, insomma. Poi altri due titoli che invece ho recuperato con l'offerta Feltrinelli delle edizioni economiche, che è la stessa offerta che viene riproposta anno dopo anno e che poi in realtà dura praticamente per tutto il periodo, cioè per tutti e 365 giorni, e io ne ho approfittato per recuperare due titoli, uno di narrativa e uno di saggistica. L'offerta sarebbe quella di due libri a 9,90. Io ho recuperato, al contrario, di Giuseppina Torregrossa, autrice che ho già letto, di lei ho letto Cortile Nostalgia l'anno scorso, non mi ha fatto impazzire, infatti è uno di quei titoli che credo o darò alla libreria oppure mi riprenderò da qualche parte, però in realtà io ho conosciuto l'autrice proprio con questo titolo che avevo visto in libreria l'anno scorso, solo che costava un bel po', era appena uscito forse, e non me la sentivo di investire così tanti soldi in un titolo e soprattutto in un'autrice che praticamente non conoscevo, quindi Recupera Cortile Nostalgia. Non mi è piaciuto particolarmente, però è comunque un'autrice che mi incuriosisce, quindi avendo trovato questo a praticamente 5 euro ho pensato fosse una buona occasione e di lei vorrei leggere anche un altro titolo ancora, il cui nome è Il conto delle minne. Dopodiché, se non mi piaceranno questi due, metterò la parola fine al rapporto con l'autrice. Ad ogni modo, questo racconta come la maggior parte dei titoli di Torregrossa della Sicilia praticamente, che poi è il luogo di nascita dell'autrice e si sviluppano tra la Sicilia, precisamente in questo caso Palermo, e Roma, che è dove vive Giuseppina Torregrossa. In questo caso, cioè al contrario, racconta appunto di questo medico che torna a Palermo e attorno al quale si crea una comunità particolarmente forte, perché viene aiutata appunto dal lavoro di quest'ultimo. E' anche una storia che è molto legata al discorso delle donne, al discorso femministo, infatti ci racconta anche di come in realtà durante il periodo della guerra le donne si sono state chiamate a svolgere tutta una serie di lavori e mansioni tipicamente maschili, ma che nel momento stesso in cui gli uomini sono venuti a mancare perché chiamati al fronte, sono state appunto svolte dalle donne. E di come poi una volta tornati questi uomini, in realtà poi le donne abbiano dovuto riprendere possesso della casa praticamente. Insieme a questo ho recuperato invece un testo di divulgazione scientifica, un saggio sostanzialmente, ovvero LSD, il mio bambino difficile, di Albert Hoffman. In sostanza si parla di quella che è la nascita di questa sostanza, di come si è venuta a sviluppare, di come sono state utilizzate e vengono ancora utilizzate alcune sue proprietà in termini benefici, ma anche di quelle che possono essere le conseguenze ovviamente dell'assunzione di tale sostanza. Sono molto molto curiosa, spero che maggio sia il suo mese, anche perché è un testo veramente molto corto, sono circa 170 pagine e qualora mi dovesse piacere, dovesse essere scritto bene, ve lo inserirò sicuramente in un video dedicato ai saggi. Infine, cambiando totalmente modalità da qui, sono tutti titoli, credo, di recente uscita, più o meno, e che devo ancora leggere, ma spero di farlo nei prossimi giorni. Il primo che vi mostro, che è Strega di Joan Lickholm, o Lickholm, non saprei, ed è un testo che appartiene sempre alla serie Le Fuggitive di NN Editore. Di questa serie ho già letto Atti di Sottomissione e Ragazze per Bene. Mi incuriosisce molto questo, perché anche qui ci dovrebbe essere una componente femminista, racconta di questa giovane donna, Raffaela, che a 19 anni si trasferisce in questa città sulle Alpi, chiamata Strega, dove lavora all'Hotel Olympic. Qui, diciamo, la quotidianità di questo lavoro viene poi ad un certo punto bruscamente interrotta, perché si verifica una serie di fenomeni, di azioni. Non vi so dire benissimo in realtà di cosa parli, perché io sinceramente mi sono affidata al fatto che facesse parte di questa serie, di questa collana, siccome mi sono piaciuti entrambi i titoli che ho letto e che vi appartengono. E poi perché per il titolo, sostanzialmente, da quando sono bambina i miei zi mi chiamano strega, streghetta, un po' per il mio carattere, quindi ho detto questo libro che parla un po' di femminismo, si intitola strega e rosa, è il mio titolo. Altro libro che mi incuriosisce veramente in una maniera incredibile, infatti credo che sarà la mia prossima lettura, è Nannina di Stefania Spanò, questo è di Gardanti. Racconta praticamente di questa ragazza, bambina, di nome Stefani, ha dieci anni e vive a Secondigliano. Secondigliano viene cresciuta secondo quelle che sono le regole, le leggi del luogo, quindi delle leggi, un tipo di educazione, delle regole che sono strettamente legate al contesto anche patriarcale. Infatti viene proprio sottolineato ad un certo punto come a Stefani, anche detta Nannina, per il nome, il soprannome che è stato dato alla nonna, non possa svolgere una serie di azioni perché donna. Una frase, una spiegazione, non spiegazione che secondo me molte giovani donne di oggi, ma anche del passato, si sono sentite ripetere più volte rispetto ad una loro semplice domanda, magari perché volevano giocare a calcio, perché volevano stare fuori casa per più tempo come i loro coetanei. Quindi ritengo che possa essere un ottimo titolo anche di immedesimazione e di comprensione. Un po' mi ha ricordato Ragazze per Bene, di cui vi parlavo prima, di NN Editore, e siccome quello mi è piaciuto molto, spero di poter trovare un po' la stessa cosa qui, anche perché ci dovrebbero essere proprio degli elementi legati al folklore, alla tradizione partenopea, e quindi è sempre un tipo di ambientazione, anche culturale, oltre che geografica, che a me attira sempre molto. Titolo completamente diverso, una sorta di saggio, non fiction, che mi ha un po' richiamato Lessico femminile di Sandra Pedrignani, che ho letto a febbraio, ed è Parole d'altro genere, come le scrittrici hanno cambiato il mondo, di Vera Gheno. Io di questa autrice non ho ancora letto niente, purtroppo, questo sarebbe il mio primo approccio, anche se vorrei recuperare un po' tutto quello che ha scritto. Ho deciso di prenderlo innanzitutto perché Vera Gheno sarà proprio al salone del libro e vorrei andarci un po' preparata in qualche modo, e ho pensato quindi di iniziare dall'ultimo titolo che ha pubblicato. E poi perché, essendo appena stata anche all'università per parlare con la mia relatrice, cioè della mia tesi, c'è una parte che sarà dedicata proprio al rapporto della letteratura con le donne, quindi secondo una prospettiva femminista ho pensato che questo potesse essere un ottimo titolo come approfondimento per portare avanti il discorso. Il titolo è molto indicativo, cioè si parla delle scrittrici che hanno cambiato il mondo e come lo hanno cambiato, cioè cosa hanno dato in più alla letteratura, perché la loro scrittura è così tanto importante e oggi vi facciamo ancora riferimento. Penultimo titolo, quello di cui in realtà sono più curiosa in assoluto, è V13 di Carrère. Ciao, sono l'attrice del futuro, senza voce praticamente raffreddata, che sta malissimo, ma si è resa conto che in queste clip stava dando delle informazioni errate su V13 di Carrère. Io in realtà ho anche già iniziato a leggere questo titolo che, spoiler, sto amando, però volevo appunto correggermi per darvi delle informazioni più corrette. Si tratta di un titolo di, potremmo dire, cronaca giudiziaria, perché l'autore è stato proprio tra gli ascoltatori e gli spettatori del processo che si è tenuto nel 2021 a Parigi, in relazione a una serie di attentati terroristici che si sono verificati a Parigi proprio, tra i quali anche quello del Bataclan. E in questo testo proprio Carrère va a raccontare di come si è svolto questo processo, di quali fossero le parti ascoltate all'interno delle varie udienze, quindi di chi fosse l'accusa, chi fosse invece la difesa e via dicendo, e racconta un po' tutte le varie testimonianze, le risposte, le domande che vengono poste. Quindi veramente un testo molto dettagliato, molto interessante, però per il momento veramente molto molto doloroso, perché già il racconto di per sé, il ricordo anche di queste vicende, perché io ricordo perfettamente quando si sono verificate, sono particolarmente vividi, sono particolarmente forti. Con la penna di Carrère, il suo modo di scrivere, il fatto che all'interno di questo titolo inserisca un po' anche di riflessioni sue, lo rende ancora più crudo, ancora più forte. Quindi bisogna procedere lentamente, ma è difficile, perché io in due giorni sono arrivata circa a metà e veramente mi sta piacendo tantissimo, quindi ve lo consiglio. Ora vi lascio l'attrice del passato, grazie. Ultimo titolo, anche qui in vista del Salone del Libro, sto parlando di cose che non si raccontano di Antonella Lattanzi. Anche questo è il primo libro dell'autrice che io leggo, però mi ha molto incuriosita per la spiegazione. Cioè si dice che l'autrice parla, trova quelle parole esatte per una storia che non è la storia singola dell'autrice, è una storia di tutte le donne, però al contempo questo tutte le donne generico non esclude la soggettività. Quindi parole che fanno male, parole che provocano dolore, parole di rabbia, di sofferenza, di forza, tutta una serie di tematiche che a me interessano molto, ma soprattutto, come vi dicevo prima, potrebbe essere utile per la mia tesi e soprattutto l'autrice sarà al Salone del Libro. Quindi anche qui, nel caso mi dovesse piacere, spero di poterle incontrare e di sentire cosa ha da dire su questo titolo, perché ne parlerà proprio lì. E i titoli sono finiti, spero di non avervi annoiate o annoiati, però sono sicura che al Salone del Libro farò danni, quindi vi farò sicuramente un altro buco, e onestamente sarebbero stati poi troppi titoli di cui parlarvi una volta finito il Salone. Spero che il video comunque vi abbia intrattenuti, intrattenute come sempre, che vi possa aver fatto piacere questa mezz'oretta, 20 minuti, non so quanto duri in totale, di compagnia. E come sempre vi mando un grande abbraccio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!